Gianni Aman c'è posta per te, la sorpresa commovente di un ragazzo siciliano cresciuto senza padre. Gianni Aman è stato il regalo che un ragazzo ha chiesto a c'è posta per te di Maria de Filippi. Per le donne della sua vita, quelle che lo hanno cresciuto e gli hanno attenuato il dolore per l'assenza del papà. L'attore turco si è prestato a regalare un sorriso alla mamma e alla nonna di Emanuele, il giovane siciliano che ha scritto alla trasmissione. Gianni Aman c'è posta per te. L'attore turco di fiction di successo come Bittersweet, Daydreamer e Mr. Hong è stato dunque ospite di eccezione del programma di Canale 5. E ha accettato di aiutare Emanuele a fare una sorpresa alla mamma Rita e alla nonna Rosaria. Gianni Aman è, infatti, il loro attore preferito. Gianni Aman, la lettera di Emanuele. La storia di Emanuele è quella di un ragazzo di Palermo cresciuto senza la figura del padre. Regalare alla mamma e alla nonna un lento con Gianni Aman è stato dunque il ringraziamento per i tanti sacrifici e l'amore. Per tanti anni avete fatto le formichine per permettermi di festeggiare al meglio i miei 18 anni. La vita sta prendendo una piega positiva ora io voglio riempirvi di sorprese. Per una sera voglio farvi io una sorpresa, ha scritto il ragazzo. Così, dalle scale dello studio è sceso Gianni Aman. Grazie a tutti.